Una truffatrice. Può chiamarmi Kitty. Un hacker. A tutti quanti i file e anche tutto il backup. Una ladra. Un picchiatore. Ecco cosa faccio. E una mente geniale. Il mio lavoro è aiutare le persone. Io do la caccia ai cattivi. Gli ingredienti per un colpo perfetto. Ci sono 12 milioni di dollari che ci aspettano. A volte i criminali sono gli unici di cui fidarsi. Leverage. Consulenze illegali. In prima visione HD. Questa sera dalle 21 su AXN. La TV in azione. La TV in azione.